ciao ehi buonasera come state? come state ragazzi? com'è andata la vostra giornata? spero tutto tutto bene in questo nuovo video io voglio rilassarmi voglio rilassarti rilassare proprio 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 te proprio 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 te con dei triggers super 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 belli spero tantissimo che vi possano piacere quanto piacciono a me e noi possiamo iniziare e noi possiamo iniziare possiamo iniziare possiamo iniziare iniziare inizio dal trigger che ritengo forse il più iconico di oggi che sono questi guanti con queste unchi super lunghe super glitterate mi ricordo quasi le unchi che è di una strega di una strega di una strega 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 di una strega sono davvero davvero lunghi arrivano fino al gomito inizio sentite che bel suona a me piace tantissimo 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 e da anche l'altro ecco qua guardate qua e da anche l'altro estraiamo tutti i pensieri negativi che tu hai avuto oggi durante questa lunga giornata e da anche l'altro un po' di te calo Non mi piace, non mi piace, non mi piace, non mi piace. buongiorno Sì Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 il nostro corso gratuito www.mesmerism.info guardate come brillano queste uomini anche come riflettono la luce blu veramente bellissime prossimo trigger non meno iconico è questa pallina qua super super anti stress e super rilassante è 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 Sì pallino 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 di stress di strasso oh Non ti stress, non ti stress, non ti stress, non ti stress Non ti stress, non ti stress ma non ti stress talk scream music il prossimo trick il prossimo trick consiste nel tapping mi sistemi un po' il bollettone nel tapping ma non del semplice tapping, bensì uno tapping, un tapping swag swag, 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 swag guardate, guardate un po' questi occhiali come mi stanno un po' un po' un po' un po' ben Buon appetito! Sì, non è vero. Sì, è vero. proviamo a farci un po' di tapping anche con i guanti di prima con le unghie glitterate con i guanti di prima Alla prossima. faccio un po' di tapping anche a te con questi occhiali ti stanno molto molto bene ti stanno molto molto bene a me a me a me a me a ok te li tolgo, te li sfilo ultimo trigger di oggi è questo roller con degli aghetti con il quale andrò a massaggiarti il viso ma anche a toccare e a sfiorare il microfono cosa ne pensi di questo suono? non è vero non è vero Grazie a tutti. 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 Buonanotte. 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 Buonanotte.